Ragazzi prima dell'episodio di Limbo ho ancora bisogno di chiedere il vostro aiuto Jacopo e Alessandro sono ancora in viaggio per l'Europa con le lattine di Red Bull E mancano circa due giorni alla fine del concorso La scorsa settimana vi chiesi di lasciare mi piace a quella pagina Però evidentemente avendolo messo alla fine del video non molti di voi lo hanno visto Stavolta sono qua a mettervelo all'inizio in modo da aiutare il più possibile questi miei amici Mi sento in dovere di farlo Uno perché avrei dovuto esserci anch'io E due perché si meriterebbero davvero di vincere cazzo Quindi quello che vi chiedo ragazzi è una cosa davvero semplice Andate nel link che trovate qua sotto in descrizione Che vi porterà ad una pagina della Red Bull E sotto The Florence Team basterà cliccare il tasto mi piace Inoltre lì vedete tutte le esperienze che hanno vissuto fino ad oggi E c'è il tasto share Quindi se volete potete anche condividere sulla vostra pagina Facebook In modo da portare altri punti alla squadra Io vi chiedo davvero solo questo piccolo favore Dai oggi ci sono anche due video alle 14 asce Minecraft Ve lo chiedo davvero col cuore Grazie a chiunque lo farà e buona visione Grazie a chiunque lo farà e buona visione Adesso Sali No Allora Abbiamo due scatole Devo far Ah ok forse ho capito Devo prendere questa Metterla qui sotto No 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 Devi andare lì sopra te Vai Aspettiamo qualche secondo Facciamo cadere questo anche Allora se cade così cade dritto Quindi non c'è verso di sbagliare Sali Sali su attento a non cadere Bravissimo E da moltissimo non ci gioco Perché avevo tra virgolette fermato la serie Visto che non vi piaceva così tanto Quindi ora speriamo di ottenere Dei buoni risultati Scala mezza distrutta Però mi regge Quindi questo è l'importante Là c'è una leva Ma non credo si possa attivare E qui si vola Oh c'è una libellula Che devo fare Ragazzi Paura Libellula Che cazzo devo fare Tan 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 Mi calza la testa Tan 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 Oddio Ciao piccola libellula Tu sarai il bellic No Stronza Bastarda Ah vi ricordo ovviamente Che alle 14 C'è anche un video di minecraft Quindi Insomma Se passare la link In descrizione Mi fate un grosso piacere Dai ma vaffanculo Non posso neanche tornare indietro Calma Keep calm And take the libellula Dai Presa 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 mia Mia Dai Salta 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 Oh dove va No 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 Troppo alto Lasciami Lasciami Pezza di merda Gli ho anche staccao una zampa Allora Una catena di montaggio Noi dobbiamo andare sicuramente Là sopra a morire Sono troppo furbo Del vapore acqueo Allora lì c'è una leva Qui c'è un ingranaggio gigante Che probabilmente si attiva con quella leva Alla sopra Mi sembra di vederlo E là sopra adesso andiamo a vedere Che cosa c'è Il niente Il nulla Ah fermi no Niente un corno C'è questo aggeggio Oh c'è un interruttore Probabilmente attivando Succederà qualcosa E poi ci schiaccia qualcosa È sicuro Eccoci Ah oddio ho capito Oh my cat No Dai 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 Non cadere È caduto Ah va bene La riporta di là Non è totalmente Perduto No No Accidenta a me ragazzi Velocca Dai 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 ci si fa No e ora Vabbè ora cade giù per forza Bene Non so dove si è andata Forse è andata sulla leva Quella Che pigiando prima Sicuramente è lì Ci scommetto Che lo volevo Suck Dai E come faccio È impossibile Ah è tornata Non lo sapevo ragazzi Lasciamo cadere da qua su E corriamo Ok E adesso Che cazzo dobbiamo farci Ce la facciamo ragazzi Ce la facciamo Suck Senti pronti Senti pronti Senti pronti Senti pronti Non ho sentito bene Senti pronti Oh Mamma mia Sono un pro player Non mi ferma più nessuno Sono Spittnik Il Dio Nettuno No Ho bisogno di quella scatola Vero Prendo la scatola con me Ci buttiamo qui No 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 Fail Vabbè Aspettiamo la prossima Ci buttiamo qui E piano piano Arriveremo giù No Bene Sarà molto più semplice Di quanto pensassi Limbo Devi impegnarti di più Per farmi girare le scatole Seriamente Ma che stai scherzando E che cazzo devo fare L'unica È che io debba prendere Anche la scatola Che ho usato di là Come at me bro Come at me Cazzo di Buddha Dai 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 Non la prende Oh Ce l'ha fatta È in bilio Quella scatola E questa Aspetta è qui Oddio Stavo per fare un altro fail Non so se vi siete d'accordo Molto bene Attiviamo Interruttore Attiviamo Scusa No No È palese C'è la scossa lì È palese ragazzi Una volta buona ragazzi Non le mordiamo Via Dai Sì Adesso un altro po' di rincorsettina Sing In the rain Ye Yes Ce l'abbiamo fatta ragazzi Sta girando tutto ragazzi Ragazzi Non è normale Quello che sta succedendo Aiuto Aiuto Butto di qua Muoio No Non mi ha preso Non mi ha preso Eh beh Stavolta diciamo che Non ci facciamo fregare Vero Eh 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 Pezzo di merda Eh che cavolo Non dobbiamo essere veloci? Forse sì Forse no Oh Oh mio dio i numeri Step e i numeri Di qua per forza Me lo sento C'è un interruttore Attivalo Bene Ah io devo salire qua sopra Tramite la scala Da qui non ci arriverò mai Ah invece sì ci arrivo Ok allora proviamo Proviamo Eh però ora mi forno su Ma che cazzo è sta roba? Questo lo metto qua su Ok si blocca Come prevedevo Bene Così dovrebbe bastare Attiviamo Saltiamo Ci arrivo? Sì Attiviamo Saltiamo sulla scatola E saltiamo di là Pelvodic Sì Mamma mia Che pro player Troppo forti Troppo forti No di nuovo Bene 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 Ragazzi ho già capito No Dovevo prendere Quello No Io devo prendere Quella lama Quella Decapitato Oh ma c'è un'altra lama lì Il mondo ruota Intorno a me E tutto se ne va Preda Ma sotto c'è la scossa Ragazzi Ah la scatola non viene presa Meno male Secondo me dobbiamo scendere lì Sulla scatola Aiuto Ragazzi Ragazzi Rambo Questo è il Rambo style Un po' da dire Wapla Ops Non mi sono aggrappato Aiuto Basta girare il mondo Qui c'è una palla Questa palla mi cade addosso No Ok la palla arriverà tutta birra Quindi porta via anche noi Come si fa? No Visto Oddio è epico Impagabile Scena impagabile Allora sono dell'idea Devo saltare Per schivare la palla Ora appena arriva la palla Io la salto Diciamo che non è proprio così Semplice Dobbiamo essere reattivi Sono dell'idea Che possiamo farcela Spingimelo a cazzo di scatola Sei un marine Sei un marine o no Sputnik Eh? Eh? Dimostralo porco 2 Dimostralo FUOI Cazzo Andiamo Allora ragazzi Questo video è terminato Io spero davvero Vi sia piaciuto È stato un episodio Veramente epico Vi ricordo che Alle 14 Asce il video di Minecraft Di passare dal link In descrizione E mettere mi piace Alla pagina Del Florence Team E noi ci vediamo domani Con il prossimo video Questa è tutto Buongiorno 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 Grazie a tutti